ciao a tutti ragazzi dal vostro mister frank tantissime volte nel nostro forum science ea vintage legend italia avete chiesto ma tor è più alto rispetto a tutti gli altri cavalieri in versione vintage toro alla stessa altezza di tor ecco la risposta in questo caso ho scelto ariete toro e ovviamente tor di asgard ariete misura circa 12 centimetri toro circa 13 centimetri e tor circa 14 centimetri millimetro più millimetro meno tor di asgard è il più alto in assoluto di tutta la serie e toro gli si doveva avvicinare però nelle versioni vintage di qualsiasi annata ed edizione le i centimetri non sono stati rispettati sia in base al manga o in base alla versione tv semplicemente toro è di un centimetro più alto rispetto ad ariete e la stessa cosa sarà per tor contro toro scelte di bandai però comunque sia a livello estetico certo si notano se mettiamo tor in mezzo agli altri di asgard comunque essendo anche abbassa abbastanza possente non si nota neanche più di tanto però se andiamo a vedere più nello specifico toro è a parte le corna ma alla stessa quasi altezza di ariete ecco ho voluto chiarire questo dubbio che troppo troppo spesso avete chiesto nel forum quindi comunque sia per quando riguarda l'edizione vintage tor di asgard è il più alto di tutti in assoluto toro gli si avvicina e poi dopo ci sono tutti gli altri che bene o male millimetro più millimetro meno in base a elmo o non elmo hanno comunque le stesse misure spero di aver chiarito i vostri dubbi le vostre incertezze le vostre curiosità per tutto il resto c'è il forum science e a vintage legend italia e come sempre iscrivetevi al canale youtube e tutto il resto come sapete iscrivetevi al gruppo facebook eccetera eccetera un caro saluto a tutti i ragazzi e alla prossima ciao